Dal progetto portoghesi presentato in pompa magna nella sala consigliare di Palazzo San Giorgio alla telenovela della ex Gil, prima battuta dalle ruspe dell'impresa Molinari, poi ricostruita dopo una lunga vicenda giudiziaria. Dall'ex Romagnoli a ciò che resta dell'ex Roxy, anch'esso in odore di abbattimento a causa dell'incuria a cui è stato esposto da anni. La sede della regione, che fosse quella della giunta, del consiglio o degli assessorati, è stato un tormentone che ha attraversato più di alcuni decenni e diverse legislature, tuttavia fin dalla sua istituzione la massima assemblea regionale si riunisce nella palazzina di via 4 novembre, mentre le sedi degli assessorati sono dislocate per la città in appartamenti privati. Ogni anno le cifre alla voce affitti del bilancio regionale sono iperboliche, da qui l'esigenza di una sede unica che dia prestigio all'istituzione ma soprattutto che abbia un raziocinio urbanistico anche per i servizi che i singoli uffici erogano ai cittadini. Ma se ai tempi del progetto portoghesi, più di 30 anni fa, costruire la sede della regione al posto del vecchio Romagnoli poteva avere un senso, collocare un centro direzionale al centro della città oggi potrebbe significare stravolgere la vita di tanti residenti. È una delle osservazioni fatte proprie dal Movimento 5 Stelle. Continueremo a seguire attentamente tutti gli sviluppi, ha dichiarato il consigliere regionale Fabio De Chirico, per scongiurare possibili conflitti di interesse e per tutelare l'interesse della collettività. Come minimo occorrerà coinvolgere il Comune di Campobasso prima di assumere qualsiasi decisione.